Salve a tutti e bentornati su Calamos, strumenti di scrittura. Lo vediamo già dalla confezione arancione. Oggi parliamo di una nuova Tibaldi e sono veramente molto curioso di vederla perché è una delle Tibaldi che ho subito aspettato appena avevo visto l'uscita di questa Tibaldi perché è una forma che mi intriga molto. Tibaldi, marchio antico, lo abbiamo detto e ve lo ricordo nel video che vi linkerò qui sopra, è famiglia Aquila che detiene il marchio Tibaldi. Questa che andiamo a vedere ora è la Bononia, una penna storica della Tibaldi ma questa ovviamente è una riedizione, quella era una penna in celluloide, questa è in resina, non è in celluloide ed è a cartuccia converter. Tiriamola fuori dalla confezione e poi sotto la confezione al solito abbiamo le cartucce e la garanzia che in questo caso è di plastica, ma direi che possiamo tranquillamente eliminare queste cose e passare alla penna che è la cosa che ci interessa di più. Questa è la Bononia rossa detta mist, questa è una, non è celluloide, è una resina denominata spaghetti per via di queste striature. È una bellissima resina, nulla da invidiare alla celluloide, sul cappuccio ha tre anellini, Tibaldi qui sul sommità del cappuccio, la clip è dritta e molto classica, la forma è a sigaro classica ed è una penna anche abbastanza importante. Ovviamente è made in Italy e il cappuccio si svita. Il pennino qui è un Tibaldi, è un marchiato Tibaldi in acciaio ed è la misura M. L'alimentatore come abbiamo visto nel precedente Tibaldi è in ebanite, quindi cosa molto gradita per il flusso di inchiostro che dovrebbe garantire. E poi qui abbiamo il converter marchiato Tibaldi che è a vite sulla penna, quindi altra cosa molto gradita. Il pennino peraltro anch'esso è svitabile, quindi intercambiabile, altra cosa molto molto gradita. E questa è veramente una, questa con una forma per me molto interessante, poi mi saprete dire voi, ed è una riedizione di un classico, diciamo una penna classica, quindi la forma è quella classica. E questa è secondo me la sua caratteristica, la cosa che la rende quasi desiderabile, a meno che non abbiate già quella in celluloide originale. Però questa è veramente una una bella resina con degli ottimi riflessi, come potete vedere, è veramente una una penna interessante da da possedere. Il prezzo non è dei più economici per una penna con pennino in acciaio, ma questo poi ognuno saprà vedere o cercare il prezzo che più gli interessa. Con che cosa l'andremo ad inchiostrare ora? Con questo Diamine dei 150 anni 1864 Blue Black. E il calamaio è il triangolare di questa serie della Diamine, questo calamaio qui. E ora andremo a caricare la nostra penna, smontandola. Spero che in futuro vorranno realizzare anche penne a caricamento a pistone e sarebbe veramente una cosa molto interessante per questo rinato marchio italiano. Ecco che stiamo facendo affluire l'inchiostro, c'è un po' di aria sicuramente dentro e quindi dobbiamo far scendere un po' di aria. È la prima volta che inchiostro la penna, non è mai stata inchiostrata prima. Direi che questo può bastare per la nostra prova. Ora approfittiamo a pulire il pennino un po' velocemente e quindi a ricaricare la... a chiudere la penna e metter via l'inchiostro, non deve dare inaspettati danni. Bene, ora andremo sulla carta Rodia e qui andremo ad effettuare la nostra prova di scrittura con questa... con questa Tibaldi. andiamo un po' più vicino sulla penna. Quindi stiamo scrivendo con una Tibaldi Bononia. Si vediamo qui il colore della penna perché viene anche prodotta in un colore verde che si chiama olive. mist. Il tratto è fino nonostante che sia un M e infatti qui il pennino è un M, un medium. L'inchiostro invece è il diamine dei 150 anni, un'edizione speciale, è il 1864 Blue Black. il pennino è un acciaio, ho nessuna flessibilità, però si comporta bene e per essere un tratto M è decisamente fino. abbastanza bagnato, non bagnatissimo sulla punta dell'inchiostro, però molto, come vedete, molto reattivo e si comporta abbastanza bene. dovrò scriverci un po'. Direi che la penna si comporta veramente molto, molto, molto bene. il feeder in ebbanite è il suo tocco principale al pennino e la resina è quanto di più interessante si possa avere. Il cappuccio è calzabile all'indietro, rendendo la penna decisamente grande. Io onestamente preferisco non calzarla. direi che la scrittura è ottima. Il tratto, secondo me, nella gradazione dei pennini tendono un po' a lavorarli abbastanza, quindi questo, questo che dovrebbe essere un M, io lo trovo decisamente più vicino all'F che non all'M, ma questo non è necessariamente un difetto, anzi alcune volte direi che può essere un pregio. Direi che con la prova di questa bellissima Tibaldi Bononia è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!